il presidente che sta facendo? ci siamo 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 ma ora smontiamoci tutti sono le 20 e 20 si ancora stanno cercando di mettere in moto il presidente arneggia con la mamiglia è l'allenamento per i 90 metri? sono i piedi di porco è il piedi di porco il guaio della mia fuori è la prima volta fatto la prima volta vi è finito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.